Amici di Calcio Passo, buongiorno! Cominciamo con la rassegna stampa della settimana, ossia io mi leggo i giornali e ciò che mi colpisce ve lo racconto. Ieri, insomma, questo weekend è stato finalmente un weekend calcistico, una Bundesliga in tono un po' minore, però c'era anche da aspettarselo dopo tutta questa sosta. È normale che non si può partire proprio con gli squigli, con le trombe, con gli spari di cannone, anche se poi, voglio dire, secondo me ci saranno parecchie partite da over, perché comunque quando la condizione è un po' precaria, le squadre che hanno i giocatori di maggior qualità, poi alla fine hanno la meglio, ma staremo a vedere nelle partite successive. Allora, Totti in incognito, in giro al centro di Roma con la mascherina, e dice che non è stato riconosciuto. No, obiettivamente no, ma se voi romanisti incontraste qualcosa che lontanamente ricorda Francesco Totti, non ve ne accorgete. Poi ho vicino una bionda, che chiaramente poi gli occhi si vedono, sono dei lariblasi, messi insieme in uno stesso contesto e non se ne accorge nessuno. Boh, secondo me queste foto sono andate a fare tipo alle 6 di mattina, alle 5 e mezza, 6 di mattina, che adesso fa anche giorno presto, insomma. Non lo so, secondo me un romanista lo fiuta proprio a distanza, anche dalla camminata, da dietro, per cui non regge sta cosa, non l'ho capito. Comunque, ragazzi, soprattutto tifosi della Lazio che seguite Calciopazzo, una grande notizia per voi, un pezzo di scudetto che si cuce ancora di più rispetto, insomma, ai tre quarti che già, voglio dire, sono mezzi cuciti. Maldini, profondo conoscitore di calcio, se lo dice lui, ci potete credere. Scudetto? Basta Juve, per la legge dei grandi numeri dico Lazio. Ecco, un altro pezzettino di scudetto. E non credo, non credo che Maldini sappia della novità, insomma. La famosa Aquila sul cancello, 18 metri di ala, 18 metri di ala, una caposcia così, un becco a punta che fa anche da radar, nel senso che riesce a captare romanisti che passano a 2-3 chilometri e li fulmina con i raggi fotonici degli occhi dell'Aquila. Quindi, la Lazio sta diventando sempre di più, giorno dopo giorno, un grandissimo club, riconosciuto, riconosciuto anche da campioni illustri come Paolo Maldini e per cui dovete stare tranquilli. Poi, la classica notizia sticazzi, di Letta Leotta cade e si sbuccia durante l'allenamento. Ma poverina, effettivamente si è fatta male a un ginocchio, però l'occasione ci è gradita per farci vedere le tette, perché si piega giustamente per controllare questa sbucciatura e un mondo si dipanano, anzi due mondi si dipanano davanti a noi. Molto bene. Poi, coronavirus De Luca, a sorpresa, la campagna non riapre. Molto bene. Poi, vediamo un po', vediamo un po'. Serie A, ecco il calendario, Juvelazio a metà luglio, la trentottesima giornata, il 2 agosto. Vediamo qualche data, così giusto per regolarci. Se il capitano dovesse ripartire il 13-14 giugno, prima si giocherebbe la ventisettesima giornata. Poi, il 17 giugno, i recuperi della venticinquesima, che sono quattro partite, il primo luglio si disputeranno le semifinali di ritorno di Coppa Italia, ricordiamo che c'era ancora in paglia una Coppa Italia, ma giustamente il 22 la finalissima. Ed in piena estate andrebbe in scena l'ultimo turno che potrebbe essere decisivo per l'assegnazione dello scudetto con Juve-Roma, Napoli-Lazio e Atalanta-Inter. Bene, questo era quanto vi dovevo sul campionato. E adesso entriamo nell'argomento di giornata. Le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Allora, prima leggiamo un pochino, poi dopo vi dico la mia come sempre. E vabbè, Spalletti auspica che la serie A riparta. Poi, vediamo un po'. Bisogna tornare a giocare, la gente vuole il calcio. Il calcio è uno strumento potentissimo per tornare mentalmente alla normalità. La gente lo guarda nel tempo libero, andrà fatto soprattutto pensando a loro e a quanti hanno sofferto e lottato. Poi, qui c'è un vecchio articolo, ringrazio Gesù per avermi fatto vedere Totti. Contro la Lazio, uno dei suoi momenti top. Chiaramente parla della sua esperienza nerazzurra. Ricordiamo bene, insomma, quella famosa partita Lazio-Inter dove il famoso fallo su De Vrij, c'è anche la canzone mia e DPF la spazza a De Vrij che consentì all'Inter, all'ultima giornata appunto, di raggiungere la qualificazione, il quarto posto utile della qualificazione in Champions League proprio ai danni della Lazio. Non mi ricordo se stavano appagliate o di qualche punto, comunque probabilmente la Lazio stava avanti, quindi gli sarebbe bastato forse anche un pareggio, se non ricordo male, ma l'Inter appunto vinse quella gara. Poi, mai usato le squadre per intervento, interessi personali. Spalletti sabatini, notte intere a parlare di calcio e ricorda appunto quando nel 2015-2016 i due acquisti, insomma quelli che secondo lui sono stati più significativi di Perotti e del Ciarau e effettivamente a quella Roma che ricordiamo quando Spalletti sostituì Rudy Garcia in pratica intanto mi è saltata la pagina. Cazzo è successo? Perché mi è andata a Totti che gira per Roma? Così. Ha deciso da solo, ma ha cambiato la pagina? Vabbè, a lui piace. Dicevo, quella Roma di Rudy Garcia che veniva da quella sconfitta cocente contro lo Spezia e rigori in casa, arrivò, si mise anche in discussione ed in Dzeko. Si mise anche in discussione ed in Dzeko perché comunque il Ciaraui e Perotti giocavano titolari, mi sembra che all'inizio Perotti giocasse da tipo falso 9 e il Ciaraui giocava sulla sinistra e per qualche partita si pensava appunto a un Dzeko sempre più lontano da Roma perché comunque Panchinaro lo ricordiamo anche in quel famoso derby dove poi entrò e segnò ma all'inizio partì dalla panchina e quindi lui ricordava appunto Luciano Spavetti ricordava questi due acquisti come i due acquisti della svolta che hanno comunque ridato Verve e Vitavita a quella Roma e che hanno poi portato anche nell'anno successivo con il ritorno di Dzeko in Pompamagna lo ricordiamo a una forse la Roma più bella dell'epoca pallotta la Roma del record di punti e su quella panchina appunto sedeva Luciano Spalletti no perché molti a volte lo dimenticano Spalletti viene giudicato negativamente soltanto per la famosa dei famosi liti con Totti e il fatto che fu rimandato a casa dall'allenamento cacciato da casa sua ok queste fuono le parole usate ma per quanto riguarda la logica di squadra invece che dovrebbe essere sempre la prima cosa la più importante Spalletti intanto è stato l'unico allenatore a tornare alla Roma di tutti quelli che sono tornati da Lidlman poi a fare non dico meglio perché poi nella prima gestione vinse mi pare due Coppe Italia se non sbaglio e una Supercoppa italiana e comunque resta l'ultimo allenatore vincente con la Roma ma in campionato comunque ha realizzato il record di punti che non ha significato nulla come non lo ha significato nella sua prima gestione dove comunque è arrivato a tanto così è l'allenatore che ci è andato più vicino allo scudetto perché alla fine primo tempo di Catania Roma e Parma Inter la Roma che stava vincendo a Parma e l'Inter che stava pareggiando a Parma ho detto la Roma stava vincendo a Catania scusate la Roma era campione Italia alla fine del primo tempo poi giustamente si è svegliato Ibrahimovic e la cosa è andata a puttane pare stato l'allenatore che in questi anni si è avvicinato di più allo scudetto anche più di Ranieri perché molti ricordano come la Roma che poteva vincere lo scudetto quella di Ranieri ma ai spalletti quello che ci è andato più vicino proprio a livello di tempistica perché ripeto mancavano 45 minuti detto questo la gestione Totti probabilmente sappiamo che a livello umano spalletti è quel classico toscanaccio permaloso eccetera non credo non credo che Francesco Totti sia meno permaloso quindi è stata una guerra fra permalosi e non poteva che finire a schifo però ricordo nell'ultima gara dove appunto si salutava Francesco Totti perché molti pensano sbagliando che Francesco Totti abbia smesso per volere di Spalletti in realtà il volere è stato esclusivamente della Roma esclusivamente esclusivamente insomma di Pallotta di Baldini lo sappiamo bene chi è che voleva insomma l'allontanamento di Totti però vogliamo parlare della valorizzazione di Totti probabilmente Francesco Totti insieme a Spalletti ha giocato le sue migliori stagioni è stato valorizzato al massimo ha vinto la scarpa d'oro sia come assist man sia come bomber l'allenatore che è stato in grado di valorizzarlo di più di tutti è stato Luciano Spalletti poi è vero che la maggior parte ce l'ha messo lui con la sua tecnica con la fantasia la classe il terzo occhio tutto quello che volete però i dati dicono che sotto la gestione Spalletti abbiamo il miglior Francesco Totti abbiamo il miglior Simone Perrotta abbiamo il miglior Rajana Ingolan abbiamo il miglior Edin Dzeko Edin Dzeko i gol che ha fatto con Spalletti non li rifarà mai più dopo quel momento lì è tornato a essere sicuramente un grande giocatore un regista d'attacco tutto quello che volete ma non è più stato un bomber da dopo Spalletti ok e queste sono tutte cose che vanno analizzate perché a noi a noi ai tifosi da Roma dovrebbe interessare la Roma e no le dietribe personali quindi chi ama da Roma non può disconoscere che la migliore Roma di pallotta sia quella di Spalletti e che l'ultima Roma l'ultima Roma a portare un trofeo è stata quella di Spalletti punto tutto il resto so chiacchiere di cui non me ne frega assolutamente un cazzo io guardo i dati guardo la mia Roma il meglio il bene per la mia Roma e vi do questi dati soltanto con quella che fatica ho parlato 12 minuti ragazzi spero che mi abbiate capito spero che veniate numerosi a commentare e mi sembra che ho terminato non credo ci sia più altro da dire vi auguro una buona giornata e sempre caccio paccio